Mario Zappia mi ricorda il comandante del Titanic quando dice che l'ospedale di Sciacca va bene, così oggi Fabio Termine che aggiunge venerdì non protesteremo contro Zappia, anzi mi aspetto che anche lui protesti con noi. L'emergenza ospedale di Sciacca finisce al centro di una interrogazione presentata all'Ars, al gruppo che fa riferimento a Cateno De Luca. Sciacca, opposizione di centrodestra e PD invitano la comunità a partecipare al sit-in. Politica con una PEC da Riyadh in Arabia Saudita, Gianluca Fisco dovrebbe formalizzare domani le sue dimissioni da assessore e vice sindaco, pronti il sostituto, scelto dal Partito Democratico, si tratta del consigliere Antonino Certa. Rifiuti, il Consorzio Conai ha predisposto il progetto definitivo del nuovo piano aro del comune di Sciacca. Ci saranno 5 diverse tipologie di rifiuti da differenziare, oltre al ritiro porta a porta degli indumenti. La crisi del commercio, ma anche le prospettive di crescita al centro della terza conferenza di sistema regionale di ConfCommercio Sicilia, che si svolge alle verdure di Sciacca, a confronto istituzioni ed operatori del settore. A partire da stasera torna su Telemontecronio Meeting Sport, storica trasmissione dedicata al mondo dello sport, nata 33 anni fa sulla nostra emittente da una idea di Giuseppe Recca, che sarà il conduttore anche di questa nuova stagione. Benvenuti, ben trovati anche oggi su Telemontecronio per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Quando dice che l'ospedale di Sciacca va bene, Zappia mi ricorda il comandante del Titanic. Lo dice oggi al nostro telegiornale il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, che si appella alla popolazione a partecipare alla manifestazione di protesta di venerdì mattina. Il commissario dell'Asp ha personalizzato l'iniziativa, noi non protestiamo contro di lui, anzi mi sarei aspettato che anche lui partecipasse, dice il sindaco. Ascoltiamo. Allora, sindaco Termine, ieri abbiamo appreso che l'assessorato regionale, in una nota interna evidentemente, Iacolino, Volo e Requiretz, dicono a Zappia, guarda che tu devi garantire l'ortopedia all'ospedale di Sciacca e che l'ospedale di Sciacca è dea di primo livello. Intanto come considera questa nota interna d'ufficio? Ma è un barlume di speranza sicuramente, perché vuol dire che a Palermo si stanno accorgendo di quanto si sta andando indietro nel servizio sanitario nella provincia di Agrigento. Così oggi al nostro telegiornale il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, a 72 ore dall'attesa manifestazione in programma venerdì mattina promossa da 19 sindaci e da diverse associazioni capeggiate dal comitato civico per la sanità. Le parole di Zappia a commento anche dell'iniziativa assunta dai sindaci e poi da tutte le comunità che ne stanno facendo chiaramente parte sono gravissime, perché quando si dice a precisa domanda che l'ospedale sta bene, a me sembra di ascoltare il comandante del Titanic che prende l'iceberg e continua a dire che va tutto bene. Dire che l'ortopedia Sciacca comunque è ancora in vita, perché comunque c'è l'equipe che una volta a settimana viene a fare praticamente le visite, io credo che ci stiamo probabilmente abituando a sentire di tutto. Per Fabio Termine Zappia ha sbagliato a personalizzare la manifestazione e così il sindaco provoca il commissario straordinario dell'Asp. Mi aspettavo dal commissario Zappia l'adesione a questa manifestazione che è una manifestazione non contro Zappia ma a favore della sanità pubblica, a difesa della sanità pubblica, che se non ce ne siamo ancora accorti ma in realtà ce ne stiamo accorgendo purtroppo tutti, sta praticamente cedendo il passo alla sanità privata a tutti gli effetti e anche lì mi permetto di dissentire con quanto detto da Zappia, non è vero che i medici vanno a servizio della sanità privata perché ci sono stipendi più elevati, sicuramente questo è un dato, ma il dato è anche un altro che è quello che nella sanità privata ci sono delle condizioni di lavoro che sono diverse rispetto a quelle che oggi si intravedono nella sanità pubblica che noi stiamo chiaramente attenzionando perché bisogna essere degli eroi per lavorare all'ospedale di Sciac, ne abbiamo visti tantissimi casi, proprio il giorno in cui Zappia rilascia le sue dichiarazioni sono tantissimi casi di pazienti che hanno dovuto fare delle peripezie, hanno dovuto girare tutta la Sicilia per semplici radiografie, quindi io credo che bisogna togliere il velo e affrontare come ben si è detto in altre occasioni il problema, però lo si affronta partendo dal dato di realtà che non è sicuramente quello che professa il commissario. Fabio Termini ribadisce l'appello a partecipare alla manifestazione di venerdì mattina che muoverà alle 10 con un corteo da piazza Saverio Fricia, dirigendosi poi in piazza Scandaliato. Sono convinto che chi può partecipare, perché è chiaro che non tutti lo potranno fare, chi può partecipare però lo debba fare, lo debba fare perché questa è una manifestazione che, lo voglio ripetere, non è contro nessuno ma è a tutela di un presidio ospedaliero, in questo caso l'ospedale di Sciac che è a servizio di più territori e che non può cedere il passo così per come sta accadendo. Questo è uno spartiacque perché a quel punto poi bisognerà capire che cosa fare della rete ospedaliera. Io credo che il DEA di primo livello vada difeso con tutte le forze che abbiamo perché ritengo che sia dimostrazione di efficienza e di qualità nei servizi sanitari. Sono d'accordo sul fatto che probabilmente è un problema anche nazionale di mancanza di medici, tutto questo io lo do per scontato, lo do per buono, ma le risposte a questi problemi non le ho viste e in un anno e mezzo, lo ripeto, sono stato chiamato una volta sola da Zappia per i medici argentini, non sono più stato chiamato. Una cosa è certa però, durante il Covid sono stati spesi tanti soldi, evidentemente sono stati spesi anche male, perché se oggi ci ritroviamo con situazioni in alcuni casi anche fatiscenti, E' chiaro che se sono stati spesi dei soldi ieri, oggi non possiamo trovarci in situazioni di questo genere. E a proposito della scelta del giorno a Sciacca, come capita spesso, ne è scaturito un dibattito, non sono pochi quelli che hanno fatto notare che se si fosse puntato sul sabato o sulla domenica il successo sarebbe stato garantito, ma termine chiarisce. Questa intanto è un'iniziativa che è stata assunta dai sindaci e si voleva assicurare una massima partecipazione da parte dei più sindaci possibili. E' chiaro che non è semplice mettere d'accordo tutti e quindi si è individuato un giorno che poteva essere spendibile per tutte le istituzioni. L'emergenza ospedale di Sciacca finisce anche all'ordine del giorno dell'Assemblea regionale siciliana. I sette parlamentari del gruppo Sud Chiama Nord, che fa riferimento a Cateno De Luca, hanno sottoscritto una interrogazione in cui chiedono al Governo risposte sulle inefficienze del Giovanni Paolo II. L'opposizione di centrodestra e di Sciacca intanto ribadisce che venerdì parteciperà al corteo in difesa dell'ospedale. Un invito alla cittadinanza a partecipare proviene anche dal Partito Democratico. Il servizio. Porta alla firma dei sette parlamentari regionali del gruppo Sud Chiama Nord, capeggiato dal vulcanico sindaco di Taormina, Cateno De Luca, l'interrogazione è presentata al Presidente della Regione Schifani e all'assessore alla salute Giovanna Volo, avente ad oggetto le criticità dell'ospedale di Sciacca, quelle che venerdì culmineranno con una manifestazione di protesta giunta al culmine di un indebolimento dei servizi e alla luce della mai avvenuta attivazione di quella Stroke Unity che avrebbe conclamato il riconoscimento di idea di primo livello ottenuto nel 2019 ma mai reso operativo. Fanno chiaro riferimento ai parlamentari De Luca, La Vardera, Balsamo, De Leo, Lombardo, Sciotto e basta, anche all'esposto a Procure e Corte dei Conti, presentato dal Comitato Civico per la Sanità e sottoscritto da alcuni sindaci per evidenziare una situazione definita grave ed insostenibile. I deputati regionali che fanno riferimento a Cateno De Luca invocano risposte su tematiche diverse, dalla riduzione drastica di medici ed operatori sanitari al lungo elenco di reparti in grave sofferenza o addirittura chiusi come ad esempio l'ortopedia. L'interrogazione contiene anche un rilievo sul funzionamento a singhiozzo di una delle due sale di emodinamica e il mancato utilizzo nella seconda sala da tempo sottoposta al lavoro di ristrutturazione di un nuovo angiografo tuttora impacchettato. Il gruppo Sud Chiama Nord sottolinea come l'esposta alla magistratura e le manifestazioni di protesta dei cittadini esasperati dalle difficoltà di eccesso all'assistenza sanitaria scaturiscano anche dalla ventilata ipotesi secondo cui l'ospedale di Sciacca verrebbe eventualmente declassato ad ospedale di base. Sottolineano i deputati regionali quella che definiscono inefficienza dell'intero sistema che penalizza non soltanto i pazienti e i loro familiari, ma anche il personale medico e paramedico al quale pur impegnandosi con la massima professionalità e dedizione appare ovviamente in forte difficoltà a gestire questo gravoso carico di lavoro anche in considerazione che l'ospedale Giovanni Paolo II è al servizio non soltanto della città di Sciacca ma dell'intero comprensorio. Dal governo il gruppo parlamentare chiede di sapere perché il DEA di primo livello non sia mai stato attuato se l'ospedale di Sciacca rischia di essere declassato ad ospedale di base e se il governo non ritenga opportuno intervenire urgentemente per garantire un adeguato livello dei servizi minimi essenziali. Nel frattempo a pochi giorni dalla manifestazione di venerdì mattina i consiglieri comunali di opposizione ribadiscono oggi il proprio appello che definiscono accorato, forte e deciso confermano quanto già anticipato nella conferenza stampa di due settimane fa ovvero sì che parteciperanno alla manifestazione di venerdì in difesa dell'ospedale e del sacrosanto diritto alla salute dei cittadini. Non rimarremo mai in silenzio ad inermi davanti alla necessità di dare voce al territorio già in passato ci siamo uniti per salvaguardare con parti della nostra città oggi torniamo a farlo a gran voce scrivono i rappresentanti del centrodestra ad opinione dei quali la manifestazione di venerdì è necessaria, urgente e vitale non possiamo più assistere, osservano al continuo, lento ed inesorabile smantellamento del nostro ospedale il reparto di ortopedia ridotto al lumicino è solo l'ultimo palese colpo inflitto alla nostra città, la comunità è in pericolo, occorre fare squadra, dicono dall'opposizione anche il PD di Sciacca naturalmente annuncia pubblicamente la propria adesione alla manifestazione difendiamo l'ospedale di Sciacca indetta per venerdì 10 novembre alle 10 la comunità locale ai paesi dell'Interland, si legge in una nota del gruppo Dem, vivono una situazione insostenibile con disservizi, criticità e assenza totale di cure in tanti reparti ormai diventati la normalità. L'accusa alla direzione strategica e sanitaria è quella di nascondere da anni sotto il tappeto segnalazioni, esposti, raccolte di firme, presidi davanti l'ospedale del comitato civico della sanità che in questi anni è stato insieme alla deputazione regionale e nazionale il vero faro per il circolo saccenza del PD è arrivato il momento di scendere in piazza per far sentire la presenza di chi vuole avere come punto di riferimento il diritto alla salute. Siamo alla cronaca, l'omicidio del marmista Giuseppe Miceli avvenuto a Cattolica, Eraclea, nel dicembre del 2015. La Procura Generale di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione nei confronti di Gaetano Sciortino, l'operaio di 59 anni accusato dell'omicidio ed ha chiesto alla Corte di Cassazione di disporre un nuovo processo a suo carico. Sciortino in primo grado era stato condannato a 24 anni di reclusione mentre in appello è stato assolto. Adesso la Procura ricorre in Cassazione. Noemi Tummiono. La Procura Generale di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione nei confronti di Gaetano Sciortino, l'operaio di 59 anni di Cattolica, Eraclea, accusato dell'omicidio del marmista Giuseppe Miceli, ucciso il 6 dicembre 2015 all'interno del suo laboratorio in via Crispi e ha chiesto ai giudici della Suprema Corte di annullare l'assoluzione di Sciortino e di disporre un nuovo processo a suo carico. Alla richiesta si è associato anche l'avvocato Antonino Gazziano, legale dei familiari della vittima che adesso chiede un nuovo giudizio per Sciortino al fine del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai prossimi congiunti di Miceli. Gaetano Sciortino, difeso dagli avvocati Santo Lucia e Giovanna Morello, era stato condannato in primo grado a 24 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Agrigento. La Procura di Agrigento aveva chiesto nei suoi confronti l'ergastolo. Nel giudizio di secondo grado, la Corte d'Assise d'Appello di Palermo, presieduta dal giudice Angelo Pellino, lo scorso giugno ha ribaltato completamente il verdetto, disponendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti dell'imputato. I giudici di appello smontarono l'intero impianto accusatorio, escludendo anche la rapina come possibile movente. Adesso la Procura Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione, chiedendo alla Cassazione di annullare l'assoluzione e disporre un nuovo processo per l'operaio. Diversi motivi alla base del ricorso presentato in Cassazione dall'avvocato Antonino Gazziano, legale di parte civile. Tra questi, l'omissione della valutazione di prove testimoniali e documentali proprio su argomenti decisivi ai fini della riconducibilità dell'omicidio all'imputato ed un'errata valutazione sull'alibi fornito dalla moglie dell'imputato, ritenuto credibile dal tribunale e falso dagli inquirenti. La vicenda risale alla fine del 2015, quando il cadavere del marmista fu rimenuto all'interno del suo laboratorio. Un omicidio efferato, con l'artigiano di Cattolica Eraclea ucciso con alcuni attrezzi del suo stesso laboratorio ed un'acqua santiera in marmo. Gaetano Sciortino venne arrestato dai carabinieri due anni dopo il delitto. Ad incastrarlo, secondo l'impianto accusatorio poi sconfessato in appello, ci sarebbero stati alcuni elementi. Il ritrovamento di una scarpa in un'area rurale, la cui impronta sarebbe compatibile con quella repertata dai rissi sulla scena del crimine, il presunto pedinamento del giorno precedente e la distruzione di alcune punte da trapano da parte dei figli dell'imputato intercettati che appartenevano alla vittima. Il movente tuttavia non è mai stato ben chiaro. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo hanno denunciato nove persone per diverse tipologie di reati. Nell'ambito dei controlli dell'attività olearia in provincia sono stati denunciati due maggiorenni e due minorenni per furto di olive da un terreno non di loro proprietà. Durante i controlli eseguiti invece per ciò che concerne il rispetto del codice della strada, oltre ad un soggetto straniero sorpreso alla guida dell'auto senza patente perché revocata, sono state denunciate due persone che a seguito di perquisizione sono state trovate in possesso di coltelli di genere vietato, oltre a modiche quantità di crack ed eroina. Ad un posto di blocco i militari dell'arma inoltre hanno fermato un 41enne a bordo di un ciclomotore risultato oggetto di furto ed è stato pertanto denunciato per ricettazione. Altro intervento dei carabinieri su segnalazione di un cittadino ha portato alla denuncia di un tunisino senza fissa dimora colto in flagranza dopo che si era introdotto abusivamente all'interno del domicilio del richiedente. Diventano definitive le condanne a carico di una coppia di coniugi di Campobello di Licata per avere beneficiato illecitamente del reddito di cittadinanza. Lo ha sancito la Cassazione che ha rigettato i ricorsi della difesa confermando la sentenza emessa lo scorso anno dalla Corte di Appello di Palermo. Un anno e quattro mesi di reclusione sono stati inflitti a Gioacchino Falsone, 61 anni. Otto mesi invece a Basilica Falsone, 49 anni. Entrambi sono di Campobello di Licata. Il primo era accusato di truffa per avere allegato una documentazione ritenuta fasulla alla domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. La donna invece era accusata di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. Nella documentazione infatti risultava casalinga, mentre dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è risultato che la stessa fosse titolare di una partita IVA per una attività di commercio ambulante. Dovrebbe formalizzare domani le sue dimissioni dall'amministrazione Termine. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gianluca Fisco lo farà con una PEC da Riad. Il Partito Democratico ha confermato il patto sancito in campagna elettorale e ha comunicato al sindaco il nome del sostituto di Fisco. Si tratta di Antonino Certa. Ce ne parla Massimo D'Antoni. Le anticipazioni che il nostro telegiornale aveva fatto la scorsa settimana hanno ricevuto una conferma. Sarà Antonino Certa, consigliere comunale tuttora in carica, a sostituire Gianluca Fisco in seno all'amministrazione comunale di Sciacca. E questa è la decisione ufficiale del Partito Democratico che ha informato formalmente Fabio Termine della propria determinazione. Rispettato dunque il patto preelettorale sancito tra i candidati nelle liste PD e Ferdinandea e vertici del partito, dalla loro segretario cittadino a quello provinciale Simone Di Paola con la benedizione del capogruppo DEM all'Assemblea regionale siciliana Michele Catanzaro. Un patto che stabiliva lo scorrimento della lista nel caso in cui fosse stato necessario ricorrere all'eventuale sostituzione di assessori in carica, tenendo conto della disponibilità e dei diretti interessati ad accettare quel ruolo. Antonino Certa ha detto sì e adesso attende solo la chiamata da parte di Fabio Termine. A questo punto Gianluca Fisco si dovrebbe dimettere domani. Lo farà con una PEC da Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, dove si è trasferito per ragione di lavoro. Certa potrebbe giurare già nelle prossime ore. Subito dopo il suo insediamento si dimetterà da consigliere comunale. Anche questo stabiliva il metodo di lavoro condiviso all'interno del Partito Democratico. Il suo posto verrà preso dal primo dei non eletti nella lista del PD. Nella fattispecie si tratta di Giuseppe Labella. D'altronde, come si ricorderà, anche Valeria Gulotta fece la stessa cosa, agevolando in quel caso l'ingresso in Sala Falcone Borsellino del primo dei non eletti di allora, ovvero sia il consigliere Giuseppe Ruffo. Metodo, peraltro, condiviso anche dalle altre liste della coalizione, compreso il caso di Salvino Patti, che come noto lasciò per fare spazio a Giuseppe Catanzaro. Metodo che mise Alessandro Curreri di fronte alla necessità di scegliere se entrare in giunto, ovvero se rimanere consigliere comunale. Se avesse accettato la carica assessoriale, anche lui avrebbe dovuto dimettersi. Questa sostituzione insieme all'amministrazione non dovrebbe chiudere comunque la partita. In attesa di un pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'appello del ricorso elettorale di Ignazio Messina, infatti nel caso in cui la sentenza dovesse lasciare le cose per come stanno, sembra inevitabile, in ogni caso, una revisione dell'attuale composizione assessoriale, quello che una volta si chiamava rimpasto che poi è diventato una parolaccia. In tale direzione si parla di una rivalutazione generale di forze ed equilibri ed è in tale direzione che circolano già dei nomi a partire da quelli di Fabio Leonte e Simone Di Paola. Ancora però è prematuro a non essere prematura e invece la questione, tutt'altro che secondaria, della delega del Vice Sindaco nel rispetto dell'attribuzione stabilita al Partito Democratico, questa dovrebbe andare a Valeria Gulotta. Nuovo piano aro del Comune di Sciacca in fase di definizione. Il Consorzio Conai, cui l'amministrazione comunale si è rivolta, ha definito il progetto che prevede un ulteriore step nella raccolta differenziata dei rifiuti con sei diverse tipologie, ma anche un incremento dei servizi di scerbatura e spazzamento che riguarderanno anche il cimitero di Sciacca. Il Consorzio Conai ha predisposto il progetto definitivo del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e pulizia della città di Sciacca. Il piano aro, che era stato elaborato dall'aggiunta guidata da Fabrizio Di Paola, in particolare dall'assessore Gaetano Cognata, scade il 17 maggio del prossimo anno. I passaggi da consumare sono ancora tanti. Il nuovo piano aro dovrà essere approvato dall'aggiunta di Fabio Termine, poi passare all'esame delle competenti, commissioni consigliari, bilancio e ambiente per i pareri di rito e infine approdare in aula Falcone Borsellino. Con il via libera del Consiglio Comunale di Sciacca potrà essere avviata la procedura per l'espletamento della gara di appalto e l'affidamento del servizio alla ditta vincitrice. La proposta elaborata dal Conai, il consorzio cui l'amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi per la redazione del nuovo piano aro, che dovrebbe rimanere in vigore per otto anni, punta a dare un'ulteriore spinta alla raccolta differenziata dei rifiuti. Si ampliano ancora più le zone servite dal porta a porta, ma soprattutto sarà chiesto ai cittadini di differenziare ancora di più e ancora meglio. Rispetto alle tre attuali tipologie di rifiuti che vengono ritirati dalle ditte appaltatrici del servizio, è prevista una raccolta differenziata del multimateriale. Significa che rispetto alla situazione attuale occorrerà separare vetro, carta e cartone, plastica e alluminio, tre diversi mastelli, tre diversi momenti di raccolta. Il nuovo ecocalendario dovrebbe prevedere il ritiro dell'umido sempre tre giorni a settimana, quello di carta e cartone una volta a settimana, così come quello del secco residuale, per intenderci tutti i rifiuti che non si possono differenziare. La raccolta di plastiche e alluminio, così come quella del vetro, dovrebbe avvenire invece a settimana alterne. Significa che questi rifiuti verranno ritirati ogni 15 giorni. Alle cinque diverse tipologie di rifiuti verrà giunta la novità del ritiro ogni due settimane anche degli abiti usati. Con l'avvio del nuovo sistema di raccolta, ai cittadini saranno consegnati ovviamente nuovi mastelli. Quello relativo al secco residuale sarà dotato di un sistema che consentirà di individuare il proprietario per evitare che si conferisca in quel mastello rifiuti che possono invece essere separati, ma anche nell'ottica di premiare chi più differenzia, riducendo di conseguenza al minimo il contenuto del sacchetto del secco residuale che viene attualmente ritirato il giovedì. Non solo la raccolta porta a porta è la novità di dover separare vetro, carta e cartone, plastiche e alluminio. Il nuovo piano aro prevede un incremento dei servizi di scerbatura che punta soprattutto a raddoppiare il personale addetto rispetto alle giornate che rimarrebbero 180 e a prevedere che almeno una squadra sia operativa 365 giorni l'anno. Altra novità l'introduzione del servizio di spazzamento manuale da aggiungere a quello meccanico attualmente previsto. Nuovo piano aro che poi rispetto all'attuale situazione garantirà il servizio di scerbatura, pulizia e svuotamento anche al cimitero di Sciacca. La crisi del comparto ma anche le prospettive di crescita al centro della terza conferenza di sistema regionale di confcommercio Sicilia che si è svolta ieri e oggi al Verdura Resort di Sciacca. Vediamo. La crisi del comparto, le sfide della globalizzazione ma anche le prospettive di crescita al centro della terza conferenza di sistema regionale di confcommercio Sicilia in programma ieri e oggi al Verdura Resort di Sciacca. Dopo Marsale e Siracusa la scelta del luogo in cui svolgere la conferenza è caduta sul territorio agrigentino in fermento dopo il riconoscimento di capitale della cultura per l'anno 2025. Ieri pomeriggio al Resort di località Verdura l'apertura dei lavori con due tavoli tecnici sui temi del lavoro e sulle sfide della digitalizzazione e innovazione. Un importante momento di riflessione e di confronto come evidenzia il presidente provinciale di confcommercio agrigento Giuseppe Caruana. Sicuramente si è fatto un focus su quello che è lo solo dell'arte, del comparto commerciale in genere, del comparto delle imprese, tutte partendo da quelle della produzione per passare a quelle dei servizi, accanto a quelle del retail e del turismo che sono parte fondamentale del corpo costitutivo di confcommercio che rappresenta davvero buona parte del gesto di imprese in Sicilia e in Italia. Quello che è venuto fuori è che in questo momento è ancora in fase di dibattito grazie anche ai tantissimi relatori che si sono alternati, gli assessori Aricò, Tamaio, Albano, il capo di gabinetto del turismo, dell'assessore Amata, tutti presenti a raccogliere e a dibattere quelle che sono state le nostre valutazioni, anche le nostre proposte. In particolare il momento difficile che sta avendo il comparto della moda che a causa del caldo anomalo non riesce ad avere un momento di vendita come dovrebbe avvenire nella normalità, ma il fatto che il clima sia ormai completamente cambiato è andato di fatto e bisogna prenderne atto e coscienza e quindi cercate di trovare soluzioni anche in tal senso con una serie di proposte che guardano sia la delle contribuzioni sia a una sorta di bonus come avviene per altri settori. Questo è stato un primo passo che abbiamo anche esternato e che è stato raccolto dalla politica in particolare, poi l'accesso al credito, la visione di una strategia che sia più condivisa possibile all'entrata del Mediterraneo. Naturalmente un focus sull'agrigento capitale della cultura è quello che può portare di beneficio al nostro territorio, ma alla Sicilia tutta. Riguarda il degrado dell'area di Rocca Regina nella zona portuale di Sciacca, l'interrogazione è presentata dall'amministrazione comunale dal consigliere Giuseppe Catanzaro. L'area attraversata è visitata giornalmente da turisti e cittadini, scrive il consigliere, si presenta come una discarica a cielo aperto seppure con vista mare. Per Catanzaro è urgente un intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati nel tempo, così come la sostituzione delle vecchie panchine e una costante cura del verde. La zona di Rocca Regina al momento è impresentabile nonostante la presenza di strutture ricettive e di ristorazione. L'amministrazione del consigliere Catanzaro chiede se sono in programma interventi per migliorare le condizioni in cui versa l'aria. E torna la rubrica dedicata alle vostre segnalazioni che oggi si apre con un grave disagio vissuto dagli utenti impossibilitati a deambulare che non possono accedere al poliambulatorio dell'ospedale di Sciacca per via dell'ascensore, guasto ormai da circa due mesi. Il servizio. Ancora guasto l'ascensore al poliambulatorio dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Si apre con questo grave disagio vissuto dagli utenti la rubrica delle vostre segnalazioni di oggi. In particolare a rivolgersi alla nostra redazione è un disabile su sedia a rotelle che non può, gioco forza, effettuare una visita ambulatoriale specialistica in autonomia. L'unica soluzione infatti è quella di portare in braccio per le scale la persona disabile. Soluzione inconcepibile. Ed è da ben due mesi che l'ascensore bloccato e gli utenti impossibilitati a deambulare sono costretti o a rinunciare alle visite o a farsi trasportare in questo modo. E questo è soltanto uno dei tanti disagi vissuti dalla cittadinanza che si rivolgono all'ospedale di Sciacca. Altro problema atavico della città sono le buche per le strade. L'ennesima segnalazione arriva dalla via Morandi, esattamente davanti la vetrina di un notatelier. Si tratta probabilmente di un tombino saltato. Al solito, al posto di eliminare il pericolo, si temporeggia collocando un segnale stradale. Peccato che una soluzione temporanea debba durare sempre mesi e mesi. Gli abitanti del quartiere Perriera richiedono invece un intervento di scerbatura. Qui siamo in via Piacenza, nei pressi del liceo scientifico. Come si evince dalle foto, il marciapiede è impraticabile, con l'erba che cresce rigoyosa non solo ai lati ma anche al centro, impedendone il passaggio. Situazione analoga anche nelle arterie limitrofe. E concludiamo la nostra rubrica tornando a ribadire che nel centro cittadino, così come nelle periferie, urge un nuovo ciclo di derattizzazione. In particolare è dalla zona Rocca dei Fiori che tornano a segnalare che è necessario intervenire il prima possibile. Topi di notte e di giorno vengono avvistati per le vie Verdi, Rossini e Bellitti. I residenti sono esasperati, non potendo aprire le finestre, per paura di ritrovarsi i ratti dentro casa. Il Museo diffuso dei Cinque Essenzi di Sciacca partecipa al World Travel Market 2023 che ha preso il via ieri a Londra. Ce ne occupiamo in questo servizio. Ha preso il via ieri il World Travel Market 2023, uno dei tre eventi più importanti al mondo dedicato al settore del turismo. Manifestazione alla quale partecipa il Museo diffuso dei Cinque Essenzi con il patrocinio del Comune di Sciacca. Uno spazio speciale dedicato alla narrazione di Sciacca, evidenziando la sua autenticità e le innumerevoli proposte per i viaggiatori in cerca di autentiche esperienze. La particolarità dello stand del Museo dei Cinque Essenzi è la presenza di persone che vivono e incarnano a pieno il progetto, cittadini veri narratori di bellezza, a differenza di molti altri stand in cui la narrazione è affidata a tecnici e manager. L'iniziativa di promozione internazionale di Sciacca è supportata dall'impresa sociale cooperativa di comunità che gestisce il Museo diffuso dei Cinque Essenzi, le cantine De Gregorio, la cooperativa La Madre Terra, il consorzio Corallo, il circolo nautico Il Corallo e l'oasi naturale di Marevivo presso Eraclea Minoa. Il primo giorno del World Travel Market ha attirato l'attenzione di molti tour operator e di centinaia di visitatori che hanno dimostrato un forte interesse per le attività che il Museo diffuso dei Cinque Essenzi offre ai viaggiatori, esperienze e comunità, patrimonio e persone. Tra i numerosi visitatori anche il ministro del turismo Daniela Sant'Anchè. Aprirà a breve il cantiere che condurrà al restauro della colonna votiva delle Terme, stelle erette in memoria della tragedia del dirigibile francese Dixmude affondato a largo di Sciacca cento anni fa. In occasione del centenario il comune sta predisponendo una serie di eventi con il coinvolgimento delle associazioni e dei club service del territorio. In piedi anche uno scambio culturale con il comune francese di Pierre-Fé du Varda dove era partito il Dixmude. A dicembre una delegazione comunale sarà in Francia mentre gli esponenti francesi saranno a Sciacca in primavera per l'inaugurazione della colonna votiva restaurata. Sentiamo. Comune di Sciacca, associazioni culturali e club service del territorio tutti insieme per stilare un programma di eventi da svilupparsi in occasione del centenario della tragedia del dirigibile francese Dixmude. Se ne è discusso ieri pomeriggio nell'ambito di un incontro che si è tenuto in sala aggiunta. Rilevanza sarà attribuita ovviamente anche alla figura del canonico Don Michele Arena. Diverse le proposte in cantiere che riguardano il coinvolgimento delle scuole, eventi teatrali, convegni, presentazioni di libri, mostre documentari e lavori grafici in genere. Il comune di Sciacca inoltre ha già avviato un dialogo e scambio culturale con il comune francese di Pierrefaux-du-Var, da dove era partito il Dixmude e dove anche lì era stato eretto un monumento in memoria dei membri dell'equipaggio. A metà dicembre una delegazione comunale saccense sarà in Francia, mentre gli esponenti francesi saranno a Sciacca in primavera per l'inaugurazione della colonna votiva restaurata. Nel giro di qualche settimana infatti, non appena saranno superate tutte le pendenze burocratiche, si conta di poter aprire il cantiere che conduca al restauro della colonna votiva sita nei presti delle terme di Sciacca, come hanno confermato ai nostri microfoni anche l'assessore comunale Francesco Di Mino e il progettista Michele Ferrara. La situazione dal punto di vista proprio strutturale della colonna, fortunatamente con l'emendamento che è stato proposto dall'opposizione, è stato votato poi dall'intero consiglio comunale, la colonna verrà restaurata e quindi sarà nuovamente fruibile e visibile in tutta la sua bellezza e splendore, così come lo era fino a qualche anno fa. In più verrà pure illuminata in maniera particolare e verranno cambiate due delle ringhiere, quindi sarà un intervento corposo. Dal punto di vista culturale invece oggi con le associazioni che fanno parte di questo gruppo operativo, di questo comitato organizzatore, sono venute fuori tantissime idee e quindi useremo l'inizio del cantiere per iniziare una serie di iniziative che poi si concluderanno nel mese di maggio, in cui si inviteranno anche le autorità francesi. Questo perché credo sia fondamentale esserci questo scambio tra Italia e Francia, anche perché la tragedia di X-Mood ha coinvolto Sciacca sicuramente, ma principalmente tanti cittadini francesi e quindi è giusto invitare le autorità francesi. Quindi una delegazione francese verrà anche a Sciacca? Sì, la richiesta è questa che faremo noi. C'è da dire che già noi come Comuni di Sciacca siamo stati invitati giorno 21 in Francia, quindi sicuramente andrà una delegazione istituzionale da Sciacca e quindi poi per ricambiare tutto inviteremo allora a Sciacca e lì faremo una grande manifestazione con la colonna votiva finalmente restaurata. Per quanto riguarda il cantiere, le tempistiche quali saranno? Allora, in questo momento la situazione è che ora il Comune acquisirà il progetto e poi chiederà l'autorizzazione alla sovrintendenza. Sappiamo che la sovrintendenza da questo punto di vista non creerà problemi e poi si parterà con il cantiere. Sono stimati in circa 40 e 60 giorni di lavoro e quindi speriamo veramente che nel prima possibile riusciremo a vedere finalmente la colonna votiva, bella come lo era un tempo. Il progetto esiste perché l'abbiamo realizzato insieme ai miei collaboratori dello studio già nell'estate del 2022 e in qualche maniera sono stato disponibile a poter mettere a disposizione questo progetto ed è un progetto di recupero della colonna votiva che finalmente darebbe luce questa bellissima torre, questa colonna che ricorda tanto i morti delle Diximude a Sciacca cento anni fa. I lavori entro quanto tempo dovrebbero completarsi? I lavori nel suo tempo saranno un paio di mesi di lavoro perché c'è da montare tutta un'impattatura particolare e poi da lì c'è tutto un lavoro molto interessante che poi spiegheremo più in là perché nel rilievo della torre abbiamo scoperto che esiste un modulo particolare che ha segnato un po' il disegno della colonna stessa e quindi diventa interessante lo studio del rilievo della colonna stessa. Un'ultima cosa, siccome la zona è soggetta alla salsedina marina c'è un modo tecnico per evitare che la colonna torni a depavorarsi in futuro? Sì, noi quando abbiamo fatto il progetto ci siamo rivolte alla MAPEIO, un'azienda che fornisce dei materiali particolari e ci ha consigliato un po' di utilizzare questi intonaci elastici perché la colonna ha anche le sue vibrazioni e quindi col tempo il cemento di intonaci lo spacca e quindi occorrono degli intonaci particolari sia per la salsedina che sia per le vibrazioni che la colonna stessa ha. Torna questa sera a partire dalle 20 e 15 sulla nostra emittente Meeting Sport, storica trasmissione dedicata al mondo dello sport nata 33 anni fa su Telemonte Cronio da un'idea di Giuseppe Recca che sarà il conduttore anche di questa nuova ed entusiasmante stagione del programma incentrato sui campionati delle varie discipline sportive ma durante il quale si parlerà anche di sport come strumento di crescita sociale e di promozione del territorio. Sentiamo. Torna questa sera su Telemonte Cronio, canale 80, Meeting Sport, programma di approfondimento e dibattito dedicato agli appuntamenti sportivi della città e del territorio, un format storico della tv locale nato nel 1990 proprio sulla nostra emittente da un'idea del giornalista Giuseppe Recca che sarà il conduttore anche di questa nuova stagione. Riflettori accesi su tutte le discipline sportive in una città che vanta la presenza di tantissime associazioni e società che si occupano di sport ma che spesso devono fare i conti con i problemi legati all'impiantistica. Non a caso, proprio dalla prima puntata in onda stasera, si parlerà non solo di sport ma anche di impianti sportivi. Si farà il punto sui lavori al pallone tenna Nino Roccazzella che pare si stiano finalmente completando, dopo anni di attesa e che consentiranno di restituire alla città la fruizione di una importante struttura. Altro tema al centro del primo appuntamento di Meeting Sport saranno naturalmente i risultati del weekend sportivo appena trascorso, a cominciare dal campionato di calcio di eccellenza con la vittoria dell'Unitas Shaka a Mazzara e l'avvio dei campionati maschile e femminile di pallavolo che vedono impegnato il Volley Club Shaka. Ospiti di Giuseppe Recca saranno l'assessore allo sport del comune di Shaka Valeria Gulotta, il presidente dell'Unitas Pasquale Bentivegna ed il tecnico del Volley Club Enzo Graffeo. Meeting Sport andrà in onda su Telemonte Cronio ogni martedì sera al termine del TG Review delle ore 20 e poi in replica il mercoledì al termine del TG Review delle ore 15 e nei giorni successivi in altre fasce orarie. La rubrica Il Libro del Giorno. Provate a immaginare l'estate alle porte si respira aria di libertà. Quando il donna della vostra parrocchia vi chiede di fare gli animatori per i bimbi dell'oratorio estivo. Probabilmente penserete ma chi me lo fa fare? Ed è ciò che pensano anche Sara e Gabriele quando il parroco avanza loro questa esatta richiesta. I due per di più non si stanno neanche tanto simpatici. Sara non sopporta i modi da precisino di Gabriele e lui non riesce a capire perché questa ragazza dai grandi occhi blu debba essere così scontrosa. Ma il tempo, la buona volontà e la guida saggia e discreta del loro parroco fanno sì che l'ostilità iniziale si trasformi in un sentimento tanto potente quanto inaspettato. In pochi mesi due giovani si riscoprono e imparano a conoscersi negli occhi l'uno dell'altro. Non possono immaginare che ad attenderli c'è una prova difficilissima che sconvolgerà le loro vite. Alla fine dell'estate nulla sarà più come prima. Il primo romanzo di Ambrogio Mazzai non è una storia inventata. È una storia nata mettendo insieme i pezzi della sua vita da giovane prete. Un racconto che riflettendo un'esperienza comune tocca il cuore di tutti, ragazzi e adulti. In presenza e sui social Don Ambrogio si confronta ogni giorno con le persone più diverse, con i problemi, le paure, le emozioni che spesso si fa fatica a confessare. Lui, come il don del suo libro, è sempre pronto a tendere una mano e mostrare come ogni tempesta possa essere superata soprattutto se c'è qualcuno che ci ascolta e senza giudicare fa un pezzo di strada insieme a noi. Poco più di un'estate di Don Ambrogio Mazzai. Edito PM Siamo allo sport. Una vittoria e una sconfitta per il Volley Club Shack all'esordio nei due campionati federali maschile e femminile. La squadra di Enzo Graffeo ha superato nettamente il Monreale e punta ad un torneo di alta classifica, mentre la formazione di Nino Marchese ha perso con onore a Palermo Mondello e lotterà per raggiungere la salvezza. Il servizio. Al via i campionati federali di pallavolo per il Volley Club Shack. Nel campionato di serie C maschile Girone A, la formazione guidata da Enzo Graffeo si è imposta per 3-7-0 contro il New Giga di Monreale. Questi parziali 25-16, 26-24 e 25-11 in favore dei padroni di casa. La partita si è disputata all'interno della palestra dell'istituto comprensivo Mariano Rossi alla Perriera, in attesa che vengano completati i lavori di ammodernamento del pallone tenda Nino Roccazzella. I ragazzi di Graffeo hanno giocato bene e conquistato i primi tre punti della stagione. Un leggero calo si è registrato soltanto nel secondo set, in cui gli ospiti hanno provato a farsi sotto ma senza riuscirci. La società saccense sembra avere ambizioni di alta classifica e voler dar seguito alle ottime annate vissute nelle precedenti stagioni, pur puntando sempre su una compagine giovane e appassionata. Il prossimo match è previsto adesso sabato 11 novembre in trasferta contro Lentello di Erice. Nel campionato di serie D femminile Girone A, invece, esordio sfortunato per il volley club isciacca. La compagine guidata da Nino Marchese ha ceduto per 3-7-1 sul campo del Palermo Mondello. Questi parziali 25-19 e 25-21 per le palermitane, poi 16-25 per le saccensi e infine il set decisivo 25-10 in favore delle padrone di casa. La scuola saccense ha giocato una buona partita, nonostante qualche assenza di troppo. L'obiettivo in questo caso è la salvezza e lanciare nel panorama sportivo altre giovani interessanti. Prossimo incontro, anche in questo caso, sabato 11 novembre, in casa alla palestra dell'Istituto Rossi contro il Terrasini. È tutto, noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e come sempre vi diamo appuntamento alle prossime edizioni per tutti gli aggiornamenti. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti.